attento attento salta su aspetta cambia posto mira ti prendo no no prendo mira vai alla base vai alla base gianza tu non meriti questa non mi hai rispettato i miei ordini l'ultima volta dovevi pulire l'agenzia guardare l'agenzia aggiustare l'agenzia dovrei far diventare loro delle cose che non hai fatto per non tirare i poteri quindi ora ti devi pentire di quello che hai fatto va bene mi sento mira vieni un attimo alla base ho fatto delle modifiche devi fare pure delle modifiche le farò ok le farò nel mentre vai a posare vai a posare le amore aspetta qua vado a controllare vado a controllare la zona vado a controllare la zona vado a controllare la zona ti sparo questo aspetta ha visto meliko mi ha detto infatti vedo razzi mi ha scusato meliko la prendo io la prendo io ciao ciao no no te la sto direttamente salvando la devo prendere io la devo prendere io la devo prendere io la sto salvando andiamo va andiamo è più figa la mia però sappino stai zitto non mi hai sui gusti non hai mai visto che fossero uguali no con un altro giocato coincidenze no bravo la riprendo no bravo mio ora ti la pisco no mi da mi da ma per me non mi da ora ora sono mannaggia teo dai mi da mi da lascia mi ti distrugga lupo mi da pezzo di merda pezzo di merda pezzo di merda io lascia mi devo licenziare prendo già un sito mi muoca se ci lascio andiamo alla base va eroti coglioni si oh andiamo alla base non mi scelta ecco così mi hanno insegnato il codice di stanze vita quando vengono sei se sei davvero insopportabile e non ti porto dai lama perché sennò voi ti salvano la vita collegiamo ora ti devo portare in un posto in cui ti devi sentire di quello che stai facendo mi dispiace ma non marino ciao mi da io ho legato sempre di discorso mi sta sfidando oppure oppure vado dalla parte dell'aliena ah vuoi abbandonarci con con così 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 dai no po' lo 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 no 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 ma lì c'è tutto marcella è un po' più di cento volte quindi non ti mando dai io lascia si se è veramente fastidioso con il colore di quello che lo dico con oltre il proprio non mi vuole non è bene più di te più di te oh merda ok ciò 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 salvo grazie con bar mi dai ok ai 8 coglioni o ti fermi o ti fermi io devo mandare un posto in cui ti devi perdere mi dà mi dà se non lo sai o ti fermi o faccio un omicidio mi dà otto degli amici mi dà mi dà se non ti fermi ti e ti e ti e ti uccido ti uccido non ti uccido uccido qualcun altro che che ti piace penso di me a me a me continui continui ma aveva scritto hai veramente superato il limite dopo questo io me ne vado te la vedi da solo adesso te la vedi da solo chiamalo sono tutti morti la tua ragazza stupida è venuta a salvarti cos'hai detto ma non è niente ora ti senti come non farei l'acqua sai come ti dico sei cos'hai detto la tua ragazza è una puttata è ok grazie amore ok la prossima volta non ti faccio più entrare e ti metti mani in quella panchina da solo così ti lascio pure la tua ragazza visto che non avrei più soldi ti sequestro tutto è un po' il suo amore per lucilla vieni qui c'è un po' di volare il lupo ha così adesso vuoi vuoi essere contro di me mi da vero testo non mi credo anche andate ne fia ti ho dimenticare non sono contro che so dire che mi raccoglie a pinto alcune volte mi è un peccato mamma non me ne vado io ti rompo sempre perché tu mi rompi e non te ne accorgi di me devo andare via da questa isola o sono ammazzati cento volte che da queste insalati in me beh allora scusami la la gente perde da la gente per perderà fiducia nella tua città quelli che salveranno l'isola dice questo avevi detto alla conferenza stampa che tu salveresti sempre con quest'isola lo avevi detto e non lo puoi negare ma ricordo vieni vieni avevi detto media non lo puoi negare quindi non ti devo dimenticare e ti disconnettare le cose faccio con la sua ragazza va bene allora allora si muterò dai dai unicolari va bene questo che vuole allora va bene guido io qui ho guidito il video io bene eppure che era un minuto a salvare a mary gold è sto infame schifoso perché piangi che cosa così li attacchiamo che dice fanno un ciclo la testa se vuoi attaccarli si ok si preparati allora sono qua davanti aspetta che lo so che l'ho riuscito dai unicolari lo devo riuscire dai unicolari dopo che ti ho salvato la vita ciao mida ciao mida in cazzo ti ho salvato la vita quando ero un barbino c'è una sedia sei tu che mi hai 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 sei questo sei morto non hai visto il cibo vuoi la guerra non voglio questa ti voglio ti voglio abbandonare mi vuoi abbandonare mi vuoi abbandonare mi vuoi abbandonare mi vuoi abbandonare tutto quello che ti ho fatto per te non mi vuoi abbandonare eh quello che ho fatto per te tu quello che hai fatto per me l'hai fatto perchè io ti ho salvato la pippa quando ero riconosco il tuo canzone allora allora è questo che sei questa di merda eh ora lei diventerà diventerà avrà delle regole mie quindi sarà il livelli miei la ricorda va bene vuoi fare pace non più mi ha tradito jones il che come ti ho tradito offendendoti visto che è meglio più ci sono stato per primo si offendendomi perchè tu sai io dovrei essere il tuo capo non il tuo nemico e non mi continuare a sparare se non mi hanno proprio l'agenzia va bene ma allora accetta questa tregua io non voglio fare una guerra con te e tu non la vuoi fare con me ti devo riportare in quella sedia bella dobbiamo lavorare insieme mi da solo così riusciremo a batterlo forse non hai capito ancora sono pure morto ho costruito il respawn si ma quello la non lo dai tu la creatura la creatura l'alieno in due facciamo più cose mi da non lo vuoi capire in due in due mi ricordo la mia stessa interocente sai perchè l'hanno costruita si ma in tre è meglio non ci pensi non ci pensi a questo lo sai perchè lei è uguale a me perchè l'hai creata te quindi se la stai insultando no non l'ho creata io delle persone hanno hanno rubato il pezzo del corpo la mia faccia la tutta del gemida e quindi l'hanno messa e l'hanno creata l'hanno deformata e l'hanno creata lei quindi tu stai insultando me non lei stai insultando te ma per perchè tu per prima insultato me no io non ho insultato quindi insulto e dico alla tua ragazza che mi ho trovato con l'ammazzo no l'ammazzo con quei tutti i pazzi con la barbona della sedia a fianco a tu non è vero io non sono gay barbona basta spararli c'è una barbona basta spararli amore armiamo il base non prendiamo questa perchè non so perchè ci sono io vero? è vero? rispondi rispondi si rispondi perchè ci sei tu io volevo solo io volevo solo stare con te però tu non vuoi però tu però tu però tu tu non vuoi essere più il mio amico amico? non vuoi essere più il tuo capo non vuoi essere più il mio capo né il mio amico a quanto pare io quando ti avevo assoluto eri diverso in che senso? in che senso? ora ti mando il link vattene a guardare ma mandami mandami il link allora mandami questo link e mandala mandalo da 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 ma è vero voglio vedere voglio vedere dalle telecamere lui ha registrato tutte ah si? e poi le mette sul suo canale mi è arrivata una pre-list mila contro pedato condor stories stagione 1 si si guarda quella e poi guarda oh si signore sto lavorando eh ma io sono un soldato adesso mi dà ho un soldato? ora non lo sai più allora non sei più un tipo non lavori più all'agenzia vuoi che ritorno prima? si oppure ti devo fare entrare in una macchina per essere più sicuri ti posso provare se vuoi se vieni qua nella base nuova? già l'ho costruita comunque la macchina non fa male ti perde soltanto la memoria e ritornerei come prima quando ritornerei prima lavori con me ti sto aspettando qua ti giuro che io tornerò con me prima allora vuoi vedere come io ritorno come prima? vuoi vedere? si vieni allora vieni e vedrai e vedrai se vieni dove vedrai lo stai facendo apposta perché lo vuoi fare perché vuoi continuare a lavorare con me oppure lo stai facendo per te perché lo vuoi fare? lo sto facendo per me perché lo voglio fare se vieni ti dimostrerò che sono ancora quello della prima stagione delle condor stories come lei mi chiamami o come lei mi chiamava condor ok andiamo io ero stato con la tavola dell'orario aspetto allora bene trovate una volta di scrivania dove mi posso mettere il perfetto a terri la signor mi da sta blitz box ne lo voglio no aspettiamo qua signor mi da mi senti da da radicolare in generale si ok perfetto posi posi la posi lufo sull'hangar li ha costruito apposta venga ok spara qualche corpo in aria di aria vedi posiziona sull'h si si posa di favore lo sto di qua ok vabbè vedi che il comportamento lo deve avere pure actarus è appunto cerca di diciamo qualche rispetto in più verso nida ok come no vabbè basta basta che non lo spari e fai troppi casi e non lo impunti basta basta ehi salve signor mi da benvenuto benvenuto alla nostra nuova base bravo non è dubbio aspetta nel dubbio perchè tengo abbastanza dubbi vieni va bene tu che hai quella pistola mi me la pressi un attimo fatela ridotto dove sta il tuo coso per messaggiare con me nella auricolare vedi ecco l'ho sempre l'ho messo ok altrimenti come ne parlerei con lei da lontano con lo storista uno avviata stai lavorando? si signore si si sto controllando la base per farvi venire intrusi perfetto anche te si lei sta controllando questa zona eh si allora qua abbiamo tutte le telecamere marchigeni di qua poi bisogna vedere per arficio di qua abbiamo delle telecamere criogeniche se in caso fallissimo possiamo fare un sogno eterno ci sveglieremo tra mille anni con lo stesso aspetto ok poi ok ehm di qua di qua abbiamo il secondo piano qua possiamo utilizzare i satelliti per parlare con la grande nave se vogliono mandarci qua fare qualche messaggio ehm delle scorte che ci sono appena arrivate ehm il raffreddamento qualche sedia un computer ehm dei registratori indicati per la tradizione di quello che dicono ok non spari si 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 di qua abbiamo una porta di balcone poi di qua abbiamo il bagno aspetta che qua è un po' distruttata si è meglio si si c'era uno rosso poi di qua ci sono i nostri armadietti quello mio quello di di Alessia quello suo e questo qua questo qua e quello di Marygold è questo qua ok poi vabbè di qua abbiamo il bacconcino poi invece abbiamo un'altra casa di avvistamento dove ci sono dei piccoli con container come può vedere è una cosa un po' un po' mal ridotta ma ci potrebbe servire come copertura perché poi abbiamo la barca perfetto il caso il punto sono arrivate il prevenici quali i miei 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 amici eh no non sono nemici sono ok poi questa qua sarà una veramente veramente va bene signore si stanno rubando la tua roba aspetti c'è un alieno che sta cercando di comunicare lo metto in voce e dall'auricolare possiamo parlare del telegiornale sono arrivati gli alieni si si appunto è un alieno ok collegamento attivo e dall'uno dell'altra volta collegamento attivato trattori accesi cosa vuole cosa vuole cosa vuole una cosa c'è qualcuno tra di voi in che senso spiegati meglio prima cosa testa ok questa arma per noi è il mio mio dio hanno preso il corpo di merigold quindi hanno la sua stessa intelligenza signore aspetti un secondo e quindi sono già più baro fra di noi signore non è che forse se ci penso non è che forse merigold mi ha rubato non è che non è quando l'abbiamo ritrovata c'era un lupo a fianco a lei è probabile che tipo aiuto è probabile che tipo hanno preso un aliena ecco la tecnologica si sono occupati in merigold ma in realtà la vera merito che sta ancora sul lupo a base comunque guardami dove sono o qualcosa mi ha catturato ehm mi dobbiamo scoprire però io sto comodo così sto per morire è negato come se mi morire è negato via che stiamo arrivando eccoci si vedi? non riesco a muovermi però va tutto bene wow sei miei sei miei wow maledizio posso scoprire i suoi piani se mi porto alla sua base no mi da non posso permettere che catturino anche te sto arrivando siamo arrivati all'isola di una isola sto arrivando media sto arrivando oh che bello amore a te a te rappi o meno sull'acqua non mi catturare mi hanno portato in un'isola ci sono vai 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 tu sei mi ricordo? no non è la vera mi sa ragazzi non venite ci sono due alieni in questa isola amore tu rimani come molto uguali uno con la testa dorata e l'altra ascoltando i poteri amore amore scusami tu resta qua vado io arrivo mi d'avvi stato dei temici ti dobbiamo ammazzare maledizione non è male male no falla cadere falla cadere ci sono nemici amore porto non mi hai preso ci sono dei nemici mi sono sparo mi sono scampato protettivo no mi sono attaccato passi Sono morto Ok ho fissato Non ti preoccupare Aiuto Sono morto Però sono rifaunato E questo va bene Mida Dai non lo Sei tu il vero Mida No Mida non ti No Il tuo XR Ora io sto mangiando il cervello Voi alieni siete Degli impami più pochi E mi aiutare il tesoro di morire Amore sali devo mandarci da qua adesso Non prenderete Non prenderete anche lei E' venuta Devo evocare Sto per diventare un alieno No Tra poco ritorno Non venirmi a prendere No Guida 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 Ti prego Se sei ancora venata lì se non ascolto Combatti questo essere ti prego Come farò cosa c'è di te poi altrimenti Oh Sono diventato un alieno Hai i suoi servizi Merigold Merigold Ormai Siamo tutte due dei capi Giusto? Quindi nessuna servizio nell'altro Andiamo a Merigold Non mi farò Non mi farò Comandare proprio gli alieni Sono diventato un po' strano però Sto per prendere il mio UFO Esatto Esatto E' stato proprio la mia vendita per avermi uscito No Maledetti a voi State ammazzando il mio cane Vedete delle palle? Che vanno faccio di voi? Andiamo dentro Andiamo dentro Ok Ora aspetta Dovrebbe stare Avvicinati qua Eh Viene Così Che pure là Ok Ok Ora 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 sarà bene Mastrute Stanno arrivando Come stai? Tipo con i capelli biondi? Che io? Sì Sono con chi? Io sto bene Tu invece male Malle Sporco parli Parli La città di merda Mi stai insultando? Jones Tu sei solo un parasito Tu sei solo un parasito che ha più il corpo di Nida Io Io lo vendicherò Non lascerò che muoio in vado Nida Ormai lo so servallo a metà almeno che non lo ricrea da solo è il Lino E' l'unico metodo per avere E' l'unico metodo per avere Ed è lì che è fuori Nida ce la farà E' tranquillina Soltanto perché intelligente non come te Cosa hai detto? non ti lascerò non ti lascerò vincere per tagliere il fondo quindi se mi ammazzi mi dà la misura che non ritornerà perché ora non sono il mito che conosci sono diventato qualcosa non ti uscirei a non ti riuscirei neanche a sparare se il corpo col corpo di di vita lui pratica altamente per me un padre non posso ammazzarlo non ci riuscirei si ma almeno lui lo vorrei bene al posto suo ti dico una cosa lui almeno rispetto di rispetto a voi alieni ha un cuore mentre voi non ce l'avete non ce l'avete non ce l'avete e non l'amate neanche e non l'amate né voi stessi non l'amate né se tu non lo sai però ora ha conquistato il suo corpo lui da giovane quando era un re ha ammazzato più di mille dei suoi soldati sì perché aveva un cuore d'oro ma adesso 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 è cambiato lui dove sei io sono alla base alla vecchia base vecchia base io sono la nuova base quella la isola ce ne siamo già andati dalla palude vuoi me allora viene a prendermi sei le palle adesso non mi ricordo non c'è più vina a prendermi sei le palle stronzo amico venimi a prendere con il suo fuoco dove sei tu mi vedi amore ascolta prendi e vieni la macchina deve andare via il più lontano possibile mai mai adesso io te ritorno e sezionarli ok vai tu e chi suona andare via ci metterò io allora ti aspetta vai vieni a prendere non fare una parata sono l'acca all'acca ma della valentana della tua isola gigante no se si vedevano ci dobbiamo solo e io ci uccidono non solo me chi è te kitsune dovete andarvene via tranquilla io starò bene ok io starò bene vai vai tranquilla ritornerò subito ammazzano quei bastardi in fretta tranquillo vai ti fidi di me se vuoi puoi darmi anche la magliena se ti senti sicura sono te l'ho detto dove fida ti fida l'acca di prima dove eravamo prima l'acca ti prego ah l'acca dell'elicottero ti prego vai tranquilla non morirò ce la farò per te l'acca dell'acca dell'elicottero lo farò per te vai adesso vai stanno arrivando vai bravo vai prendi la macchina e scappa no vai vai loro vogliono solo me vai 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 tranquilla gli ritornerò prendi l'auto e scappa prima che arrivino prendi l'auto e scappa mai non lo vedo non vedi mai no vogliono aspetta così alieni solo lancio uno salvo volevo dire una cosa voi volete me giusto no voglio migliore no vogliamo attuale dove vogliamo la tua fidanzata e diventerà un alieno perché già io mi devo mutare forma tra un po' mi muterò forma se dovete fai guidare a me che tu non sei guidare dovete passare prima sul mio cadavere aspetta se volete trasformare se volete se volete trasformare in un aliena ai vieni se volete se volete trovare in un aliena dovete passare prima sul mio cadavere dovrei dire che ho già visto che mi dà un gelo grazie al suo come dire il suo molti pochi a domani quali armato e dammi qualche arma ormai mi sa che non ce la farà perché fa un parassita dentro su questi tocchi che non so cioè io quindi ti dico vai prima su fare la tua amica al togge ammazzate se ammazzate noi ammazzate tanto so che vuoi più alla tua ragazza che mi da quindi salva la più del mio ragazzo faccagli la base sì andiamo so come si toglie il parassita so anche come si toglie ci ci aspetta ormai dentro il suo cervello se lo vuoi togliere io apri il cervello così amore così vedi che io stavo scherzando non lo fare sennò muore direttamente ma sei stupido non morirà va bene apri il cervello sono io la piaccia bella che stupido ho capito il suo intento noi gli dobbiamo fare vedere lo vuole fare di cantare un robot questa è nostra è una prova che amore è lui che c'è che erano questi missili li vedevi ma stai ferma qua possiamo di infracciare che la posto in sempre per non basta ma non mi racchierai ora ora si rai un attimo anche io ti ho fatto una leggera che stessi di portare smessi adesso devo solo procedere è quella quella specie di fuori fucile a plasma quando non ci sono le armi che hai da me fucile a plasma non si vedrà molto in questa scena con l'edizione il fucile a plasma ok bembran duOO ok dammelo 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 io gli sparo e dammi colpi dammi colpi dammi colpi gioco ok è venuta tieni questo tieni questo tieni questo fammelo riuscire alliello di merda ciao lo sai? oh bene gli mangio il direttamente faccia quelle alieno ho fatto l'operazione non volare sei qua sei appena risvegliata ma Merigold lo sai dov'è tu no? perfetto apri di nuovo il cervello Merigold è in un posto che tu non troverai mai Merigold si ma io non amo Merigold salverò ho salvato lei ora devo salvare Amiga no Merigold ma non sai che ti abbiamo fregato quello era solo un ologramma non è un ologramma lo sai che abbiamo pensate a voi che la metà è conquistata e qua sono io